Ciao a BetTest.it, la conseguenza di James Kent, prodotto da Ridley Scott, un film che potrebbe piacere solamente ai vecchi, vecchi, vecchi amanti del melodramma, vecchi anche perché si ricordano la seconda guerra mondiale, siamo nel dopoguerra, siamo a Berlino, è tutto bombardato, è tutto macerie, è tutto anche difficile per il personaggio di Jason Clarke, un ufficiale inglese, è la cosa più bella del film, col capello scapigliato, lui che viene dall'uomo dal cuore di ferro, dove era stato gerarca nazista, fino all'ultimo con il punto di vista di Himmler che è sfocato, che gli fa il saluto dal letto di morte, è una scena molto bella, qui invece è un ufficiale inglese che ha perso molto durante la seconda guerra mondiale, sta aspettando l'arrivo di sua moglie e ha requisito una villa, una grande villa fuori Berlino, ha requisito la villa di un architetto che ha perso la moglie e quindi l'ufficiale inglese sta aspettando sua moglie che è Keira Knightley che sta arrivando per passare questi anni di riassestamento a Berlino, ci sono ancora dei combattenti nazisti che non mollano, il gruppo 88, perché Heil Hitler sono l'h e l'ottava lettera dell'alfabeto e hanno 88 marchiato sul, è il secondo film con pelle marchiata della settimana dopo il professore il pazzo, là c'era Sean Penn che lo faceva durante la guerra civile americana, qui appunto ci sono questi nazisti che non mollano e allora l'ufficiale interpretato da Jason Clark è lì per finire probabilmente e tornare a casa, riceve la visita della moglie che è stata a Londra, la Londra bombardata a sua volta come Berlino e Keira Knightley che arriva e i due si sono installati nella casa di Alexander Skarsgård, il figlio di Stellan, che anche lui è molto bravo nel film, un architetto che ha perso la moglie tedesca e che vive a casa con la figlia. Il film è interessante perché mette di fronte la convivenza tra vincitori vincitori e vinti, si può? È possibile? E poi diventa un melò allora quando i sentimenti riescono a travalicare gli schematismi non tanto ideologici ma bellici, c'è stata una guerra, ci sono stati vincitori, ci sono stati vinti, c'è qualcuno che non vuole stringere la mano a qualcun altro, c'è il sospetto e c'è il ricordo ovviamente, ci sono le nostre vite e ci sono le vite di milioni di altre persone che sono state coinvolte in un conflitto lacerante. La conseguenza di James Kent è un film che può appassionare quindi gli appassionati di melodrammi storici, molto vecchio stile, un po' troppo, sono più bravi gli uomini che non la donna, ma non perché Keira Knightley non sia brava, lei è bravissima, è bellissima, è soffice, è morbida, è forte in Colette di Westmoreland. In questo film James Kent secondo me sbaglia proprio come il modo di inquadrarla, è un corpo particolare quello di Keira Knightley, in questo film mi ha dato la sensazione di essere troppo magra, voi direte ma lei è magra, sì ma in Colette di Westmoreland è come se Wash, che è un grandissimo regista che viene da Steele Ellis che ha fatto vincere l'Oscar a Julian Moore, è come se lui avesse capito questo problema e lo avesse risolto, in qualche modo si può fare tanto con la macchina da presa, si può. Qui James Kent ci fa vedere una Keira Knightley molto rinsecchita, molto 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 anche un po' a disagio, fa un po' di faccine e rispetto a questi due attori maschi che sono molto secondo me molto bradi, soprattutto Jason Clarke, a vestire i panni di questi due uomini, uno è un tedesco, sarà nazista, lo dovrete scoprire voi, è un architetto a modo, interpretato bene, in modo quasi perfetto a modo da Alexander Skarsgård, l'altro è un ufficiale inglese scapigliato e molto più disordinato dell'ordine che cerca di, interiormente dell'ordine esteriore che ha bisogno di mostrare. In mezzo a ciò Keira Knightley che è brava, è un'attrice che sa essere molto incisiva, sembra un po' una junior, sembra un po' una matricola in mezzo a due che sono di un, che sembrano in questo film di una categoria superiore e questo squilibra perché poi il personaggio, perché in realtà è un gioco a tre ed è fondamentale che la recitazione di Keira Knightley sia all'altezza davanti agli occhi di noi spettatori di quella dei due uomini. Mi colpisce sempre molto come mi interessa come vengono riprese le donne, anche gli uomini ovviamente, come si enfatizzi, come si scelga di enfatizzare. Qui, ripeto, Kent non è bravo a rendere attraente il corpo di Keira Knightley e si fissano sui polpacci di Keira, perché Keira, non avendo molta carne nel corpo, avendo questa mandibola così sexy, così bella, questo viso così interessante. Però poi appunto il polpaccio è dove c'è un po' di ciccia e infatti in Colette anche mi piace Wash Westmoreland come inquadra per esempio lei che si toglie, non la scena più erotica, è lei che si toglie le scarpe, mi piace molto come si toglie le scarpe in Colette sul letto. E qui a un certo punto James Kent è disperato perché c'ha Keira che è veramente quasi deperita in questo film, ha un certo punto le inquadra il polpaccione, il polpaccio che non è un polpaccione, sarà minuscolo anche quello, ma sapete che il cinema allarga tutto, gonfia tutto, il cinema, l'immagine gonfia tutto anche in televisione e quindi minimamente tu senti che c'è un po' di polpa lì. Orgasmi, è una settimana dove c'è un orgasmo, c'è un orgasmo mostruoso dentro border di Alia Basi, molto bello, molto bello, una liberazione e allora le liberazioni sono, c'è una liberazione anche qui, le liberazioni, gli orgasmi femminili liberatori, mi ricordo quello di Beth Midler in Su e Giù per Beverly Hills di Paul Mazursky 1986 da Voodoo salvato dalle acque di Jean Renoir e chi è che glielo procurava? Nick Nolte che fa il nonno rincoglionito con l'Alzheimer in questa settimana di tantissime uscite dentro un viaggio indimenticabile di Tillichberger, regista tedesco, che era presente in Stati senza gloria come attore dove c'erano i nazisti. Ci sono i nazisti qua? Sì, ci sono quelli di Masugli, il gruppo 88 che comunque crea problemi e crea attentati ed è un peccato che il film perda perché quando cerca di uscire dai tre, un po' come faceva l'uomo dal cuore di ferro che più ci penso più è un film molto interessante perché alla fine poi usciva molto da quello che sembrava il centro narrativo del film. Qui mi interessa per esempio le volte che Kent esce dal triangolo e dal melò è efficace, quando sta nel melò meno, molto meno. La conseguenza James Kent però se siete degli appassionati di dramma bellici e non vi serve che siano particolarmente belli perché l'importante è che siano bellici perché siete appassionati di questo genere di film comunque potrebbe essere interessante vedere la conseguenza di James Kent, è andato molto male, è stato trattato anche così cosa dalla critica. Molto meglio Kira, se siete appassionati di Kira Knightley come me, recuperate assolutamente Colette di Wesh Westmoreland perché è una delle migliori Kira Knightley di sempre. Ciao, betteist, subscribe, Kira Knightley col polpaccio, be bad, ciao!